Alla sala consigliare del comune di Andria, a tavola rotonda, per discutere del futuro di Castel del Monte, identità e sviluppo territoriale. La logica di trasferimento del turismo è una logica che risponde a un concetto che oggi è abbastanza in voga, il concetto sistemico, cioè la possibilità di partecipare tutti insieme ma con unica finalità. Laddove invece si assiste a una differenziazione basata su individualismo, i flussi poi si interrompono e non vengono condivisi. Quindi la possibilità è trasferire nella mentalità di tutti gli operatori, i cosiddetti organi di governo a vario livello, che la concettualizzazione sistemica, cioè il concetto di consonanza sistemica per cui ciò che è di uno e anche di altri, a condizione che si generi valore, venga acquisito. Ma alla fine cercare di trovare un rapporto di causa-effetto nelle risultanze delle dinamiche sociali non è mai facile, perché non c'è mai qualcosa che determina qualcosa. Noi siamo abituati a pensarla così, quando succede qualcosa diciamo sempre colpa di qualcuno. La verità è che il concetto sistemico è il superamento di questo, cioè se noi ci muoviamo tutti insieme con una finalità, sappiamo tutti perché stiamo facendo questa intervista e condividiamo il perché la vogliamo fare, solo così potrà venire fuori una buona intervista. Da Andre per News24.city, Davide Suriano.